Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia Statale 64 porrettana provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra le località Pavana e Ponte della Venturina in prossimità del confine con l'Emilia Romagna A Firenze ultimi giorni di preesercizio della linea T2 della tramvia, lunedì 11 febbraio infatti sarà inaugurato il servizio che sarà gratuito fino al 24 Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio! Grazie a tutti!